Buonasera a tutti, buonasera e bentornati come sempre ogni venerdì sera appuntamento immancabile, appuntamento immancabile che ormai ci invidiano tutti in Italia perché ce l'abbiamo solo noi del Digital Moon. Il format, ho parlato con una capa, seguito dal format del salotto letterario che come sempre ci tiene compagnia in questo primo giorno di inizio weekend. Intanto vado a vedere e controllare che tutto sia ok come sempre e intanto approfitto di dare la buona serata a tutti. Ho visto anche che, anzi mi hanno fatto sapere che qualcuno era anche interessato all'abbonamento ragazzi, se volete vi potete abbonare al canale come sempre, il costo è irrisorio, è un aiuto per noi e soprattutto vi togliete di mezzo le pubblicità che ogni tanto danno anche fastidio. Detto questo, stasera nuovo ospite, nuovo ospite, dopo ci sarà il salotto letterario a differenza della settimana scorsa e direi subito di iniziare. Buonasera ragazze, buonasera. Buonasera Iuri. Buonasera a tutti quanti voi, buonasera al nostro ospite, il professor Dino Leoni. È un piacere averla qui con noi. Benvenuto tra i capri. Grazie. Allora, iniziamo, ma iniziamo exabrutto, iniziamo subito, diciamo così, senza mezzi termini, perché la capra ci dicono che si è offesa, si è offesa dalla scorsa puntata, nessuno l'ha vista nel video, nessuno l'ha notata, noi cerchiamo di fare un po' le sue supporters, ma non c'è stato verso, quindi forse chiederemo al pilota pelato di darci qualche indizio aggiuntivo per riuscire a scovarla nel video, però non ci ha lasciato grosse tracce di sé, non ci dà grandi informazioni per quest'inizio puntata, non ha rinunciato però ovviamente il professore a lanciarle il suo messaggio. Quindi inizio subito dando voce alla capra con la parabasi nel posto sbagliato. E parabasi significa semplificando intermezzo, quindi se iniziamo con l'intermezzo capirete bene perché è nel posto sbagliato, ma la nostra capra è sempre capricciosa. Quindi siamo tutti ai nostri posti e io do la voce alla nostra capiretta. Paralabasi nel posto sbagliato, come dicono le capre poetiche, però a me piace toccare l'uomo. E allora sigla! Grazie a tutti! Ed eccoci tornati, ne approfitto intanto per salutare quelli che già ci stanno salutando. Buonasera, grazie 79 a Pilota Pilato e ci dice che in realtà un suggerimento l'ha dato sui commenti di YouTube, e quindi motivo in più per andarsene a rivedere la replica su YouTube della puntata scorsa. Buonasera anche da Adele Vigna, buonasera da Vagabondo 1962 e buonasera da Marcello, ovvero Velvet Nox. Buonasera a tutti! Buonasera! Buonasera, allora intanto saluto il professor Marcello Nobili che è tra i nostri ospiti da remoto e poi mi pregio, mi do l'onore di presentare l'ospite di questa sera, il professor Dino Leoni, che dispetto della giovane età ha alle spalle una divace e vitale, nonché poliedrica, esperienza professionale nell'ambito proprio dell'educazione, della formazione e dell'istruzione. Storico dell'arte e artista egli stesso ha una formazione molto raffinata nella cultura dell'arte, non solo, una eclettica formazione, un gatto bellissimo, una gatta bellissima. Abbiamo un ospite, un ospite doppio! Ma chi è? Scusa Sabrina, eh no, però questa è una... È una sorpresa! È una sorpresa, è una bellissima sorpresa! Lei è euforia, è la mia secondogenita! È euforia, allora, è una euforia, scusami! È euforia, è euforia! È euforia! Ritorno alla vocazione artistica del professore che, dopo aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento della disciplina, ha insegnato storia dell'arte ed ed educazione artistica nei licei. Attratto dalle tematiche della pedagogia speciale e dell'inclusione, ha poi approfondito, in questo senso, gli studi, diventando anche validissimo docente di sostegno. Tra l'altro, cultore della lingua e della letteratura italiana, ha successivamente ancora perfezionato il suo percorso di studi, che lo ha condotto ad insegnare materie umanistiche nella scuola, nei licei, ancora nei licei. L'amore incondizionato per la scuola, per l'istruzione, per le sorti culturali degli studenti, insieme, va detto, ad una instancabile inclinazione allo studio e alla ricerca, lo hanno riportato tra le biblioteche, tra gli archivi, all'Università Tor Vergata di Roma, dove ha affrontato, da studioso acuto e sensibile, fenomeni linguistici e le loro ricadute socioculturali tra gli studenti. Ci parlerà poi brevemente della sua ricerca. Ha espresso il suo caprino desiderio di essere presentato come compagno di merende della sottoscritta, che conosce da qualche lustro. E io accolgo con gioia questa opportunità, anche perché mi riporta nostalgicamente ai tempi in cui i ragazzi, frequentavamo i posti belli di Roma, parlando di cose belle, parlando di cultura, di letteratura. A Marcord, molto Marcord questa fase. Sono vecchia, Marcord poco, però quello che Marcord mi piace. Però il nostro amico comune, il professor Nobili, ti ha lanciato, che salutiamo ovviamente avendolo con noi, ti ha lanciato la scorsa volta un laccio e anche una sfida. Ti ha accolto tra le capre e confidando nella tua spiegazione, nell'approfondimento di un quesito che è rimasto così un po' sospeso. Cioè, come puoi fare in modo che i docenti si appassionino sempre alle materie che insegnano? Perché lui ha riscontrato che non tanto l'indolenza, l'indifferenza degli studenti è da deprecare, quanto proprio la stanchezza che a un certo punto coglie gli insegnanti rispetto al cimento, alla necessità di attrarre alle discipline e all'amore delle discipline degli studenti. Allora, tu ci dovrai parlare dell'entusiasmo, della magia che serve a tenere viva la fiamma degli studenti mostrando di avere viva la fiamma del docente rispetto alla disciplina oggetto di studio. A te la parola. Grazie, innanzitutto. Di nuovo buonasera a tutti. Sì, effettivamente Marcella Nobili ha ragione. Non dico tutti, però c'è una buona percentuale di docenti che nel corso della propria carriera smette di studiare, smette di appassionarsi a quelle discipline che una volta lo avevano portato appunto a laurearsi, a specializzarsi in un determinato settore disciplinare. Questo è verissimo. Le cause sono tante. La principale, immagino che lui si riferiva proprio a questo, sta nel dover fare, nell'essere costretti a fare. Quando si è un insegnante di scuola secondaria, di primo o di secondo grado, si è costretti appunto ad occuparsi di cose che non riguardano minimamente la letteratura, la lingua, insomma argomenti che riguardano la propria disciplina, la propria formazione culturale. Quindi in qualche modo l'insegnante si trova a fare un lavoro che non somiglia più a quello che aveva scelto ed ecco che progressivamente perde l'entusiasmo per la formazione, per la propria autoformazione e non riesce più a comunicare appunto quell'amore per la cultura che è un ingrediente indispensabile proprio per infiammare le anime dei ragazzi, dei propri studenti. Che consiglio? Come si può fare e soprattutto in che modo i docenti che riescono a tenere viva questa fiamma possono dare a questi colleghi? Quella di cercare di ritagliarsi sempre un piccolo centimetro, un momento della propria giornata, della propria settimana, della propria esistenza quotidiana ha le proprie passioni, quindi non solo leggere, andare a teatro, andare ad ascoltare concerti. Io personalmente ho cercato di tenere viva la fiamma prendendo una seconda laurea, beh, ci sarebbe da scrivere proprio un libro su come sono approdato alla filologia moderna, partendo poi da un percorso completamente diverso perché io dopo essermi laureato nel lontano 2003 in storia dell'arte, poi dopo aver fatto tutti i percorsi formativi come docente della scuola secondaria, ad un certo punto, proprio perché mi ero reso conto che dovevo occuparmi di scartocchi, di questioni burocratiche, di psicologia dell'età evolutiva, di bullismo, di inclusione, questioni bellissime però che somigliavano pochissimo a quelle materie, quelle discipline che mi avevano portato poi ad abbracciare le materie umanistiche. Quindi la mia scelta è stata quella appunto di intraprendere un secondo percorso di laurea, un percorso di laurea che era di lingue perché volevo appunto approfondire la conoscenza di due lingue europee, in particolar modo volevo imparare il tedesco. Ecco, volevo diventare un esperto di lingua e letteratura tedesca. Terribile, terribile, terribile. Ti blocco sul terreno che mi stai offrendo invece la possibilità di entrare nel vivo della passione e anche dell'apprendimento della lingua, dell'uso della lingua. Allora, guarda, io faccio vedere un'altra casa e faccio una doppia citazione, una citazione a quello che è stato il tuo percorso di studioso delle lingue e una citazione appunto al testo che sto tenendo tra le mani che è l'estratto, il compendio dell'ultima lezione tenuta nel 14 giugno del 2017 da Luca Seriani. In questo puscolo si legge è frequente sentir parlare male degli studenti e del loro livello culturale attuale, ma sono accuse che nella loro genericità non mi sento di condividere. Così il nostro maestro comune, Luca Seriani, in un passaggio della sua lezione di congetto dall'attività didattica alla sapienza. Che cosa pensa invece il professor Leoni del livello culturale dei suoi studenti? Risposta sintetica, Dino. Esistono studenti molto preparati ed esistono studenti poco motivati. Tutto qua. Però non è vero che gli studenti non sono preparati o che oggi sono tutti quanti ipnotizzati dai social e dalle nuove tecnologie. Posso infilarmi un attimo con una domanda a questo proposito? Cosa ne pensi degli studenti, del loro livello culturale? Però il livello culturale degli studenti forse diciamo in partenza, però poi dipende appunto dalla scuola. se vengono a scuola è perché dal livello culturale di base bisogna procedere. Quindi in un certo senso abbiamo anche un ruolo, dico abbiamo, perché ce lo abbiamo un po' tutti, abbiamo anche un ruolo come comunità e come comunità educante di prevedere delle mete. Quindi se il livello può essere variegato, però alla fine qual è la responsabilità che ci diamo come comunità educante? Quali sono i termini minimi, se non altro, che chiediamo in base a quelli ci muoviamo o cerchiamo di progettare un percorso? Io personalmente, ecco, per le discipline che insegno, io in questo momento della mia carriera vabbè mi occupo di tutt'altro, sono in congedo dalla scuola, però ecco sono titolare di una cattedra di lingua e letteratura italiana presso un liceo artistico e la mia finalità è che loro sappiano peronizzare. Bellissimo, bellissimo, insegnare una delle esperienze più belle della mia vita, anche insegnare un liceo artistico italiano è bellissimo. Sono assolutamente d'accordo, anche perché poi si possono fare dei collegamenti con le altre discipline della medesima area e quindi si realizzano sempre dei progetti educativi, didattici molto interessanti e molto nutrienti. La mia finalità principale è che loro riescano a padroneggiare il linguaggio, perché il linguaggio credo che sia veramente fondamentale. L'acquisizione di un linguaggio adeguato è una competenza, è una finalità trasversale. Tutti quanti dovrebbero perseguire questa finalità, poi a prescindere dalla materia che insegnano, perché il linguaggio permette poi di approfondire se stessi, di poter esternare i propri pensieri. Quindi se uno studente riesce veramente a raggiungere un livello di consapevolezza delle proprie possibilità espressive a livello linguistico, questo studente veramente riuscirà poi a interpretare la realtà circostante, riuscirà a essere veramente libero, quindi non si farà confondere da quei discorsi che tendono a gettare il fumo negli occhi. È un cittadino consapevole, è un cittadino che ragiona con la propria testa, che interpreta bene anche i propri sentimenti. Quindi una società così è formata da persone libere che hanno un pensiero ben strutturato, è sicuramente una società dove tante brutture non ci sono. Quindi il ruolo dell'insegnante in questo senso è proprio un ruolo sociale, è un ruolo importantissimo, però ecco, la principale finalità della scuola credo che sia questo. Poi come raggiungere questa finalità? Lì ci sono tante strategie, tanti percorsi validissimi che si possano intraprendere. E tante variabili. Assolutamente. Sempre citando il professor Nobbi, la scorsa settimana ha detto, ha pronunciato una frase che mi ha colpito per il suo ottimismo, cioè lui ha detto che, tra l'altro ottimista e anche molto generoso, non ha mai incontrato nella sua carriera colleghi poco preparati. La mia domanda, anzi la mia provocazione, è questa. Quanto gli stimoli culturali che raggiungono gli allievi dipendono dalla qualità e dall'efficacia del messaggio educativo e culturale trasmesso dai loro insegnanti? Che cosa voglio chiederti? Se te la senti di individuare eventualmente profili di responsabilità in quella che è comunque una situazione di avanzamento culturale tra i giovani molto poco omogeneo. Profili di responsabilità. Beh, è fondamentale che l'insegnante sia, prima di tutto, molto preparato, ma che sia anche comunicativo, e sia empatico. È fondamentale, insomma, rendersi conto effettivamente di chi si ha in classe, della personalità, dei problemi che attraversano le teste degli studenti che ci troviamo di fronte a noi. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che è fondamentale, insomma, che ci siano insegnanti preparati che abbiano un entusiasmo contagioso perché soltanto attraverso la nostra passione gli studenti possono risvegliare la loro e quindi impegnarsi poi nello studio, nell'acquisizione di conoscenze e di competenze. in questo caso io sono anche abbastanza critico nei confronti della formazione, cioè spesso ecco vedo dei docenti che si lamentano del fatto che per raggiungere la cattedra bisogna passare per delle forche caudine, insomma, bisogna affrontare un percorso lungo, faticoso e dover frequentare una scuola di specializzazione, spendere tanti soldi, magari partecipare a lunghi corsi ecco che può andare in presenza magari potevano essere dislocati anche molto lontani dalla propria abitazione, quindi io capisco ecco che la formazione dell'insegnante può essere difficile, però è anche vero che noi abbiamo una responsabilità mica da poco insomma certo sarà sicuramente diversa dalla responsabilità che può avere un medico che ha tra le sue mani insomma la vita di una persona però noi fondamentalmente abbiamo la responsabilità di formare i cittadini del domani alle nuove generazioni e non è una cosa da sottovalutare poi sicuramente questa responsabilità noi la dobbiamo dividere anche con la famiglia ed è giusto anche tornare a dialogare con la famiglia far capire che la prima agenzia educativa è soprattutto la famiglia e la scuola deve essere un'agenzia di promozione culturale quindi a scuola noi non facciamo altro che trasmettere quest'amore per il sapere da qui poi ne nasce un'educazione civica un'educazione affettiva è inutile che si aggiunge si aggiungono sulla scuola tutta una serie di funzioni che non le competono originariamente perché dover individuare l'educazione civica come qualcosa di separato rispetto all'educazione se una persona è colta se una persona ha avvicinato la letteratura ai contenuti delle discipline umanistiche questa persona sicuramente sarà un uomo o una donna civili quindi rispetterà le leggi saprà quando non è il caso insomma di 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 dimoderare il proprio linguaggio non offenderà forse ecco gran parte delle accuse che si hanno nei confronti delle nuove generazioni in realtà sono delle accuse che dovrebbero essere rivolte verso anche gli adulti che vivono questo particolare momento storico perché il fatto che le discipline umanistiche siano sempre state messe sotto accusa non servono a nulla sono delle occupazioni per anime belle fa sì che poi viviamo in un in una fase storica in cui molti molti atteggiamenti sono stati sdoganati e quindi oggi proprio perché ci si nasconde dietro uno schermo è molto facile offendere molto facile provocare quindi insomma se ci fosse invece un'educazione umanistica alla base molto solida non assisteremmo per esempio a degli episodi di cronaca terrificanti come gli stupri di gruppo come le violenze di genere tutto questo non parte da un'educazione civica che va strutturata a tavolino da un'educazione affettiva che è separata da dall'educazione to cure dall'insegnamento to cure dobbiamo appunto partire da questo da rinforzare la scuola la cultura che c'è nella scuola se questo hai detto una cosa formidabile di una potenza rilevante cioè l'appello contro la frammentazione frammentare microsettori non comunicanti tra loro le conoscenze le competenze ma la formazione culturale di una stradente secondo me è il danno il danno perché perde fa perdere di vista l'unum che è conseguire le competenze di cittadinanza attraverso la cultura quello che avviene in Italia è mettere sempre il cappello su qualsiasi stortura che avviene nella società contemporanea quindi c'è l'episodio di Elena Cecchettin di Giulia Cecchettine che viene assassinata dall'ex fidanzato e ovviamente è giusto esprimere lo sdegno per questo efferato delitto va benissimo però io comincio sempre a storcere la bocca tutte le volte che sento dire ecco dobbiamo introdurre l'educazione affettiva nelle scuole allora io per esempio sono sempre rimango sempre stupito dal fatto che di Dante si parla moltissimo della commedia la si fa leggere la si fa parafrasare dobbiamo studiare ogni singola figura retorica ogni abbellimento che è stato posto nei canti dal poeta però non si dà la giusta attenzione per esempio alle rime di Dante o per esempio al suo prosimetro prosimetro è un libro che contiene sia testi in prosa che testi in poesia e appunto la vita nova che è questo prosimetro di Dante esprime proprio attraverso una determinata sezione di questo libro il concetto di quello che è il vero amore che cosa significa amare una donna amare un uomo amare ecco poi ovviamente Dante amava Beatrice è giustamente quello è l'oggetto del suo desiderio del suo amore Dante scrive le più belle poesie in onore di Beatrice le cosiddette liriche della Lode quando Beatrice decide di togliergli il saluto l'amore fondamentalmente è questo è continuare ad amare la persona che ci è fatto battere il cuore anche quando mette in discussione questo nostro sentimento questo fondamentalmente è il messaggio che Dante lancia a tutti quindi ecco perché l'amore e la donna diventano degli strumenti di elevazione verso l'infinito verso Dio in modo proprio per elevare la propria persona ecco la cultura la letteratura sono dei veicoli di queste informazioni di questi pensieri di questi sentimenti quindi ripeto vogliamo fare educazione affettiva facciamo leggere opere di questo tipo torniamo alla letteratura diamo la possibilità agli insegnanti di insegnare determinate materie non che un'ora di letteratura italiana deve essere interrotta da non so l'esperto della ASL che viene a parlare no di come si è sbagliato picchiare una donna non c'è bisogno mi stavo infervorando io avrei delle domande prego domande e riflessioni in realtà allora una domanda è rivolta a me sono molto onorato perché la prima volta mi fanno una domanda in queste occasioni il pilota pelato mi chiede se dopo le performance come direbbe come si dice oggi no va di modo l'arte delle performance se dopo la performance della settimana scorsa questa settimana parlerò tedesco no non parlo tedesco non lo so quindi non mi fate leggere cose in tedesco detto questo vado alle domande più serie che o meglio riflessione in realtà Danilo042024 ci dice a mio avviso troppo spesso ci chiediamo in quale maniera possiamo stare accanto agli studenti manca però l'altra faccia della medaglia uno stato che tutelli gli insegnanti e i genitori che vadano incontro alle richieste degli insegnanti stessi più o meno quello che è già stato fondamentalmente in un certo senso poi che è il nostro professore ci dice restituiteci le 33 ore di educazione civica si fa EC ogni singolo giorno in classe cioè si fa educazione civica ogni giorno in classe è vero niente non c'è non c'è stato altro adesso sono assolutamente d'accordo con con l'eliminazione delle 33 ore non hanno senso non hanno senso sono dei bastoni tra le ruote poi per forza un insegnante no smette di appassionarsi ma ovviamente non si trova poi a fare un lavoro che non somiglia più a quello che aveva scelto penso che chiunque si disinnamorerebbe non c'è da stupirsi se ci sono fortunatamente non tutti gli insegnanti sono così perché anch'io come il professor Nobili della settimana scorsa ho incontrato delle persone straordinarie una di queste è anche una presentatrice di questa trasmissione insomma però ci sono veramente tanti tanti insegnanti straordinari e delle persone veramente molto valide che riscuotono anche la stima e il favore dei genitori delle famiglie poi certo ci sono ovviamente scusate il professor Nobili mi ha scritto una roba in tedesco che non leggerò mi rifiuto ufficialmente quello che leggo in realtà è quello sopra che in realtà è scritto anche in greco antio e non lo so quindi c'è scritto mi stanno lo fanno a posto ormai mi stanno demolendo ma chi è che sta scrivendo chi è che ti sta scrivendo in tutte queste lingue professor Nobili che cattiveria c'è il mandarino il cinese mandarino che già ti ha ti ha visto spero di non comunque mi ha scritto 2400 anni fa se aveva la non so cosa perché non lo so leggere oggi siamo tornati indietro rispetto all'Atene periclea quindi non so a che cosa si riferisca se mi dai la traduzione in italiano professore io te la leggo perché io purtroppo non posso visualizzare il testo in realtà se Elena e Sabrina mi sanno dare una mano io riesco a Sabrina sicuramente sta tra l'altro ha fatto la faccina con l'occhiolino come dire adesso ti ho messo nei casini giustamente con che cattiveria con che cattiveria io non riesco a visualizzarlo in questo esatto momento beh te lo giro te lo giro perché in realtà è importante comunque si risponde no dai magari anche chi non vediamo se me la si perfetto vediamo se riusciamo a le giro le entrambe così me l'hai mandata riesco a leggere la 2400 anni fa si aveva la in cui clios fa idea oggi siamo tornati indietro rispetto non è in tedesco questo è greco no no dopo mi ha scritto in tedesco questo lo so che è greco antico dopo mi ha scritto questo guarda dopo ti faccio vedere va bene che sono che non so riconoscere le lingue ma questo dopo mi ha scritto dopo ha scritto dopo ha scritto questo però vero Jury do können wir uns auf deutsch unterhalten mi va male perché io lo so è il tedesco però ma carissimo carissimo Jury però potremmo trattenerci in tedesco no ma anche il professore però lo sapeva scusi professore perché sto leggendo io noi non leggiamo la cat allora io però condivido c'è anche un'altra parte di metafora 20-24 che penso questo se non sbaglio è un'altra lingua ancora però apprezzo Danilo che mi scrive namo se a magna il lampredotto amen finalmente italiano no no basta io con il lampredotto però entro a gamba tesa se non ci sono altre domande che però mi portano lontano ti giro l'ultima ti giro l'ultima 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 osservazione ragazzi cosa mi fate fare è bellissima questa qua è in arabo è possibile posso fare una domanda in arabo adesso abbiamo fatto sfoggio di tutta questa nostra incapacità a livello di pronuncia e di traduzione invece mi voglio fare ulteriormente male perché se c'è una lingua che non riesco a pronunciare ma proprio più ridicola dell'arabo e più ridicola del tedesco è il francese e allora è il momento proprio una cosa anche lei anche tu professore è fantastico però bisogna anche essere onesti intellettualmente sei Yuri poverino nel latino ci ha fatto un po' così sorridere posso farlo anch'io bisogna comunque giocare con l'autoironia e la capra che è cattivella giustamente me l'ha fatta apposta e il messaggio la parabasi stavolta nel posto giusto che lanza a te professore lo lanza sì in italiano chiaramente però di autore francopono e questo passaggio a cui adesso mi accingo a dare lettura che è molto molto bello e richiama anche da vicino poi ci riallaccia a quanto diceva anche in certo modo il professor Nobili è di un autore che si chiama Sondrard Sondrard e il titolo è Burlanguet e l'ho detta quasi decentemente almeno spero Burlanguet che significa andare vagando per il mondo in maniera avventurosa per questo è perfetto per la nostra capra che è esattamente quello che sta facendo non solo vaga nel mondo tant'è che non l'abbiamo trovata ma anche nello spazio sulla luna e questo testo è del 1948 ora normalmente professore io mostro anche l'edizione il fatto è che l'edizione italiana di questo testo ancora non c'è c'è questa edizione francese ma il manoscritto in cerca d'autore mi è capitato fortunosamente tra le mani proprio grazie alla capra e ho appunto una lettura di un breve stragio e questa traduzione in italiano quindi abbiamo i sei personaggi in cerca d'autore noi che cerchiamo la capra e questo manoscritto che cerca un editore è di un traduttore che si chiama Bruno di Biase che ha anche dato alle stampe recentemente negli ultimi anni una sua traduzione da un testo altrettanto peregrino un po' di nicchia ma non meno bello di questo che ci accengiamo a leggere che è di Frank Venay Venay anche qui io chiedo Venia perché io mi impegno però sta capra me l'ha proprio fatta brutta una cosa tristissima una cosa brutta mi vergogno sto diventando rossa però con autoironia io sorrido ugualmente e la traduzione si intitola cioè ed è edito dalla casa editrice Ibis quindi non posso mostrare un testo per questa nostra parabasi però do ugualmente lettura quindi professore immagino sarai tutto orecchi sentiamo che ci dice la capra però a me piace toccare l'uomo quindi mi piace pensare che alla tavola di mecenate e nell'anticamera di Augusto dove si distribuivano i favori imperiali gli amici e i rivali ridevano di Virgilio l'atteggione che voleva farsi passare per un pastore ed è proprio questo pastore fabbricato per i posteri che è diventato per i poeti cristiani il conduttore e la guida immortale di Dante nella discesa agli inferi benché Dante ci presenti il personaggio come grande iniziato e alquanto inumano ma per il popolino napoletano come per tutto il medioevo Virgilio il poeta è rimasto un mago e quelli che abitano ai pressi della sua tomba si lamentano delle diavolerie che di continuo si manifestano e dei loschi visitatori stregoni maghi tiraossi cacciatori di tesori fattucchieri legatori che una tale fama attira ancora oggi di visita sono quotidiane specie nottetempo nelle notti senza luna e in certe date fatidiche dell'anno l'affluenza è così grande che pare un vero sabba è una scena molto suggestiva che ci riporta un Virgilio forse che sfugge al programma scolastico e tra l'altro questo capitolo che è sentito la Genova parla invece di Napoli e allora sulla scorta di questa immagine così evocativa professore questo Virgilio questo Virgilio che si tramuta che cosa ci può che questo Virgilio umano che cosa ci può suggerire rispetto alle nostre alle nostre memoria collettiva quanto c'è nei programmi scolastici che poi ci sfugge e si tramuta in qualcos'altro e noi non riusciamo a imbrigliarlo a farlo studiare agli studenti e che invece è ancora vivo Allora mi ha piaciuto mi ha colpito molto soprattutto la frase iniziale di questa citazione della Capra ovvero mi piace toccare l'uomo effettivamente è bello toccare l'uomo perché molti autori non solo della letteratura italiana ma anche per esempio della letteratura latina ecco in questo caso Virgilio che noi presentiamo spesso sono vittime di grandi fraintendimenti perché nel modo in cui vengono presentati non si fanno conoscere per quello che veramente erano per le loro idee prima di tutto c'è questo vizio bruttissimo di studiare letteratura senza accedere alle opere quindi non capisco di che cosa stiamo parlando se non se non leggiamo i testi degli autori insomma la letteratura poi si diventa una specie di 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 elenco di notizie gustose no come se facessimo il gossip della letteratura italiana della letteratura latina quindi non so dobbiamo imparare a memoria che Gabriele D'Annunzio ha inventato la parola tramezzino che che Italo Sveso è morto in un incidente stradale a Motta di Livenza quindi insomma una serie di di notiziole per cui tutta la storia della letteratura si riduce a è nato è morto ha scritto questo e quest'altro invece insomma sarebbe necessario approfondire proprio la conoscenza di questi autori quello che veramente pensavano del mondo della vita della storia e magari scoprire che Leopardi era una persona simpaticissima che diceva un sacco di parolacce quando scriveva le lettere che metteva tanto zucchero nel caffè fino a farlo diventare uno sciroppo che era un buon tempone che era una persona estremamente simpatica che non era quel gobbo pessimista che che pensava soltanto alla morte insomma era una persona estremamente profonda e che il suo non è pessimismo è semplicemente disincanto ed esprime invece una visione seria e rigorosa della realtà e quindi sì sono anche a me piace toccare l'uomo e vorrei che anche i miei studenti lo toccassero sempre più di frequente è molto bello veramente questo sport di toccare l'uomo di toccare gli autori gli artisti ci permette di conoscerli meglio ma senti professore adesso un sondaggio tra di noi quale ci piace di più il Virgilio quello che il nostro autore chiama l'atteggione oppure quello quindi quello latino il Virgilio invece dantesco molto sussiegoso o questo mago un po' fattucchiere quale ci piace di più oddio Virgilio a teggione sinceramente non mi risulta non lo so forse però addirittura i pretoriani di Augusto lo chiamavano femminuccia se non erro poi magari mi darà conferma Marcello Nobili che conosce la poesia di età Augusta molto meglio di me però insomma un Virgilio a teggione sinceramente non lo vedo più un Virgilio secondo la prospettiva di Dante no Virgilio che nel canto settimo dell'inferno è veramente insopportabile cioè lo riprende ogni tre due persino la gatta persino la gatta d'accordo lo sta dichiando no sinceramente lo preferisco molto più un mago fa fattucchiere quindi un Virgilio che si diverte ecco che trova anche il tempo di divertirsi di coltivare le relazioni umane d'altronde se Virgilio fosse stato atteggione così come ce lo descrive quest'autore non avrebbe scritto le opere che ha scritto no quei bellissimi passi dell'Eneide ma così come gli splendidi paesaggi delle Giorgi che non ci sarebbero non li avremmo quindi sì Virgilio mago ok Virgilio mago tu Iuri che sei un appassionato di Dante quale preferisci Virgilio latino la professor nobili la teggione lo chiama questo autore ma in realtà forse semplicemente serio il mago allora io preferisco l'hai detto fondamentalmente io conosco le immagini conosco in realtà più che conoscere ma neanche spero perché in realtà io sono molto più per le personalità semplici sicuramente però l'immagine che viene data durante la Divina Commedia è di una quasi impersonalizzazione perché poi alla fine si parla spiega però fondamentalmente rimane proprio quasi se si può concedere i termini asettico nel senso non prende mai un'emozione non c'è mai un'emozione che tende in parte sembra sempre molto calibrato diciamo a me Virgilio piace più quella è una guida quindi ti piace la guida sì esatto proprio si si tiene nella sua linea di fa quello che deve fare senza poi tendere particolarmente ulteriori commenti a quello che già deve fare cioè si attiene al suo dovere e quella a me piace perché è una figura che io la vedo così cioè è vincente per quanto sì è vincente per quanto molto vincente e tu Sabrina? no io invece sono affezionata al Virgilio che indulge sulla descrizione di Didone quindi il poeta attento all'animatore dell'animo femminile mi stride sia con la con la severità e con la sicurezza della guida un modello Waze un modello Tom Tom navigatore satellitare sia da questa figura di atteggione che un po' mi sembra caricata ecco io sono affezionata alle descrizioni classiche Amarcord vabbè la puntata è Amarcord per certi aspetti con tema sentita allora Judith ci sono altre domande per il professore c'è un'osservazione sempre da Danilo 042 024 che dice al suo modo di intendere la scuola professor Leoni che ne pensa di una scuola molto settoriale ritornando al discorso di prima vale a dire un liceo classico dove si studiano solo materie letterarie senza che si perda perdonatemi l'espressione un liceo scientifico dove si punta l'attenzione sulle materie matematico scientifiche cioè la suddivisione ogni liceo ha la sua materia preferita insomma la sua settorializzazione preferita allora appunto un liceo scientifico dove si punta l'attenzione sulle materie matematico scientifiche senza preoccuparsi di studiare altro una sorta di preparazione molto spinta verso l'università quindi come se questi licei appunto puntassero una categorizzazione ben precisa di università naturalmente lo stesso discorso varre per gli altri istituti ovviamente appunto l'ho già anticipato con la stessa filosofia di pensiero quindi che cosa ne pensa appunto fondamentalmente che un liceo classico un liceo scientifico puntino più o meno a settorializzare determinati argomenti per puntare a un'università di un certo tipo allora io penso che per l'iperspecializzazione c'è tempo quindi in età adolescenziale prima di tutto uno studente ha bisogno di scoprire di indagare meglio la sua personalità i suoi gusti le sue preferenze e quindi offrire una varietà formativa didattica credo che sia forse più opportuno poi per iper specializzarsi su un determinato settore disciplinare credo che sia poi opportuno proseguire con un percorso universitario però insomma sarebbe un po' triste anche perché fondamentalmente i nostri licei le nostre scuole secondarie di secondo grado già hanno delle materie di indirizzo che sono quelle poi oggetto della seconda prova dell'esame conclusivo del secondo ciclo e e già dedicano abbastanza attenzioni appunto a quel a quelle materie a quelle discipline poi guarda caso la maggior parte degli studenti che si scrive per esempio la facoltà di lettere proviene dal liceo classico non è detto perché io a Tor Vergata per esempio ho visto anche studenti provenire nella macro area di lettere provenire addirittura da istituti tecnici agrari quindi non avevano mai studiato latino e l'hanno dovuto reimparare completamente ex novo insomma proprio durante gli anni dell'università addirittura c'è un mio collega dottorando che ha affrontato degli esami di latino che tuttora è un dottorando in filologia della letteratura italiana e si occupa di letteratura italiana medievale quindi delle rime anonime quindi cerca di dare un autore a delle rime che ci sono state tramandate senza il nome di chi l'ha scritta questo dottorando appunto ha frequentato un istituto tecnico per geometri quindi è un po' precoce l'iperspecializzazione quando si è al liceo veramente troppo precoce c'era una nostra insegnante in fase di specializzazione all'insegnamento secondario che parlava di semilavorato di qualità la necessità di dare con l'istruzione secondaria di secondo grado una una panoramica sufficientemente approfondita e sufficientemente lasca delle cose che si possono imparare e così ritorniamo anche all'enchiuplios paideia l'educazione circolare di cui Marcello voleva suggerirci e io invece vorrei porti la domanda clou della puntata cioè quella sul canone dacci e non canone anzi non canone mi stava scappando ma non lo volevo dire canone non cagnolone un canone dacci intanto dici che cos'è il canone poi ci fornisci indicazioni rapide per un canone minimo di letture che non possono mancare e poi ci dici pure perché è una punizione assolutamente dunque innanzitutto il canone è fondamentalmente ecco per semplificare molto molto in soldoni mi perdoneranno ovviamente gli insegnanti che sono all'ascolto un elenco di autori che sono i must have come dire gli autori delle cui opere bisogna assolutamente leggere quindi ecco questo canone poi è variato nel corso dei secoli diciamo che poi l'insegnamento della letteratura italiana ecco presso la secondaria è abbastanza giovane non è vecchio di chissà quanti quante centinaia danni però fondamentalmente si è passati dall'adorare Petrarca e Boccaccio e invece considerare Dante un autore trascurabile per una serie di motivazioni linguistiche per cui appunto Petrarca veniva considerata il modello per la poesia Boccaccio il modello per la prosa e fino appunto a Galimberti ecco arrivando ai giorni nostri che dice che dovremmo smettere di far leggere i progressi sposi perché opera foriera di valori che non sono più attuali io ecco su questo avrei da ridire ma semplicemente per una questione perché i classici sono tali si portano in classe perché sono appunto portatori di valori universali e soprattutto sempre verdi cioè i valori ma così come le le conoscenze i sentimenti le emozioni le situazioni che in quelle opere che noi definiamo classici da inserire in un canone sono sempre attuali non muoiono mai quindi si parla di amore per esempio nella vita nova di Dante ancora oggi possiamo parlare d'amore possiamo parlare d'amore nel modo con cui ne parlava Dante quindi ecco venendo al canone che io proporrei io sicuramente farei leggere anche la vita nuova non soltanto appunto la non soltanto la commedia e visto che semplifichiamo linguisticamente la commedia pensiamo anche a semplificare altre opere di questi autori trecentischi che si esprimevano ovviamente in una lingua molto diversa dall'italiano contemporaneo poi se si vuole approfondire direttamente il testo delle opere più rappresentative della nostra tradizione letteraria bisogna per forza poi confrontarsi con la lingua poetica di Petrarca perché ovviamente tutti gli autori diciamo la nozione lo hanno imitato ampiamente e appunto fino all'ottocento anche lo stesso Leopardi prendeva in considerazione Petrarca come una sorta di maestro spirituale sicuramente farei leggere molto Ariosto perché è un autore straordinario piace anche la capra da buona veneta per forza è strano per esempio che non si faccia leggere la produzione poetica di Tasso come le rime io ogni volta che leggo la canzone al metauro piango perché lì viene espresso uno dei più grandi dolori che può provare un essere umano quello della perdita dei genitori e tutte le volte io mi medesimo nelle sciagure di Tasso in quello che lui ha potuto provare già da piccino quando è stato strappato dalle braccia di Porzia De Rossi quindi il canone secondo me dovrebbe essere mantenuto come quello che c'è tutt'oggi quindi individuando quegli autori ma appunto toccando l'uomo come diceva la capra quindi cercare di mostrare anche opere alternative a quelle che vengono invece considerate come i capolavori in assoluto della produzione di un determinato autore quindi anche alcune liriche di Leopardi che si conoscono poco magari far leggere più di questi autori uccidere qualche autore che è veramente sopravvalutato e non capisco perché devono sempre comparire nei programmi di letteratura italiana soprattutto delle classi terminali uno di questi è D'Annunzio perché è uno scrittore D'Annunzio cioè cos'è quindi non capisco perché si fa leggere Gabriele D'Annunzio non capisco perché dobbiamo perdere tempo anche semplicemente per due ore su quest'autore e ci sono tanti assolutamente cagliare contro Gabriele D'Annunzio no dai poveretto no su su la pioggia nel fileto e dai e su ma no assolutamente ma no ma è un ideale di arte che non serve è un'arte tutta lusso calma volutà quindi assolutamente non serve a nulla non è un'arte impegnata non è un'arte che scuola e questo sto dicendo tutto vanno bene tutti tranne i due autori che dovrebbero essere è importante invece quello che hai detto a filigrana del tuo discorso sul canone cioè lo studio l'accesso della letteratura attraverso i testi il quadro non la cornice la materia della della scrittura e della letteratura non quello che si dice di siamo abbondantemente andati oltre le nostre previsioni perché tu hai una loquacità accattivante perché ci ha accattivato il la conduzione del tuo discorso perché non ho il dono della sintesi diciamoci la verità è stata una chiacchierata piacevole ci ha aiutato a riflettere e ha aiutato a riflettere anche la capa tra l'altro al di là di quello che mi aspettassi hai chiosato te stesso in modo da essere comprensibile anche alle capre ti sei spiegato bene così mi auto mi autodefinisco adesso la tua chiarezza espositiva ti ha risparmiato la lapidazione la sassaiuola la gragnuola che solitamente infliggiamo ai nostri ospiti invece vorrei invitarti con me a intanto a lasciare un messaggio e un invito all'ospite che ti succederà nel riquadro il prossimo venerdì si tratta di un pedagogista esperto di educazione che ci parlerà di educazione ed esperienza il professor tarantino il professor andrea tarantino che appunto conduce le sue ricerche nel campo dell'esperienza vincolata all'educazione che cosa vorresti chiedergli che cosa vorresti invitarlo a dire in prima battuta poi aspetta che te la faccio complicata devi anche lanciare un apostrofe un saluto alla capra magari dicendole come ti sei trovato tra le capre che hai incontrato questo condizio poi anticipo un'altra una novità però questa volta faccio l'occhietto ai iuri adesso rispondi Dino che poi devo fare una cosa io allora prima di tutto vorrei chiedere ad un pedagogista se esiste il manuale del bravo genitore e se ancora non esiste perché non l'hanno ancora scritto questo per quanto riguarda appunto il guanto di sfida chiamiamolo così che lancio all'ospite della prossima puntata e per quanto riguarda la capra posso solo dire che mi sono trovato benissimo io adoro le capre sono dolcissime amo tutti gli animali però le capre sono veramente delle bestioline molto simpatiche dolci andrebbero rivalutate quindi grazie veramente per l'ospitalità grazie per le suggestioni culturali che mi ha che mi ha dettato in in questa oretta in cui siamo stati insieme siamo noi che ringraziamo te e ti chiediamo di stare ancora un attimo qui con noi perché dobbiamo puntare l'occhio di bue sul nostro Iuri Baldacci che emerge come un fiore nel silenzio della notte e ci declama un haiku un componimento composto da lui medesimo per poi richiudersi come un fiore nella notte dai Iuri a te per i deserti tra libri e fantasia piove vita e detto questo in chiusura non lascio nemmeno il tempo di riflettere perché mi stanno uccidendo delle accole tempistiche vi saluto tutti vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento fra 5-10 minuti rimanete sintonizzati che iniziamo nel salotto letterario ringrazio Sabrina ringrazio Elena ringrazio il professore e vi do appuntamento a venerdì prossimo sempre quando ho parlato una capra ci hanno chiesto se facciamo la diretta anche se è venerdì santo sì io sappio no sì no no allora settimana prossima non ci siamo settimana prossima no non ci siamo noi le capre si nascondono la settimana di Pasqua non ci sono vinte un giro capre e capre ma io non faccio mai vacanza quindi per me sì loro non ci saranno io ci sarò a non fare niente ciao a tutti alla prossima ciao arrivederci grazie prof buonasera arrivederci a tutti grazie sigla grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.